Buongiorno e andiamo subito a leggere i giornali oggi per quanto riguarda le pagine sportive. Una giornata oggi post terremoto con le testate generaliste, le testate che si occupano di tutto, dell'informazione a livello globale che dedicano tutto lo spazio possibile alla tragedia di ieri del centro Italia, ma troveremo qualcosa anche sui giornali sportivi. Intanto la nostra rassegna la iniziamo come sempre dal messaggero Veneto per andare a leggere i titoli e per commentare gli articoli del quotidiano di Udine. Sulla squadra bianconere c'è oggi un titolo che riguarda il problema del gol, dei troppi gol subiti, una analisi da parte dei giornalisti del messaggero, il titolo è un gol dopo l'altro, questo è il problema e si fa un'analisi delle partite in cui l'Udinese dopo aver preso un gol, poi in rapida successione ne ha presi altri con troppi blackout, scrive il messaggero Veneto, il tecnico lavora per invertire la rotta e consentire alla squadra di restare in partita, quindi di non abbattersi dopo aver subito un primo gol. Qui vediamo un'immagine della partita di Roma, andiamo a vedere in alto alcuni esempi del discorso che fa il messaggero, Udinese-Milan 2-3, l'ultimo gol di Ballotelli è stato proprio quello segnato all'Udinese con un calcio di punizione, da quel momento poi Ballotelli non è più andato in gol in stagione, poi arrivò il raddoppio di Buonaventura, il tris dell'ex Zapata e nella ripresa gli squilli di Badu e del nostro Zapata che riportarono l'Udinese ad un passo da una clamorosa rimonta. Udinese-Giuventus 0-04, il giorno della prima al Friuli con le reti di Bala, poi Chedira e quindi l'espulsione di Danilo e arrivarono poi al rigore dello 0-3 al 26esimo e quindi il poker al 42esimo ed fu un Udinese che in quel caso prese quattro gol tutto in un tempo. Crollo verticale poi allo stadio olimpico con la storia di oggi, dei giorni nostri, la partita che abbiamo seguito e abbiamo vissuto sabato scorso. Bruno Pizzuli scrive nella sua rubrica area di rigore, vietato buttarla in vacca. Una giornata di campionato e all'Udinese ululano già le sirene dell'allarme rossa e come sempre avviene in casi del genere. Scoppiano infiniti segnali di malcontento e presagili, immancabili, disastri. Bisogna però andare avanti, dice Pizzul, resistendo alla tentazione di uniformarsi all'unanime sdegno condito magari da un riprovevole turpiloquio. Anche perché se non si usano le parole e i gesti con un minimo di attenzione e correttezza ci vuol poco a scatenare una catena di reazioni altrettanto sgradevoli. Questo è il parere dell'illustre Bruno Pizzul. Per quanto riguarda le ultime in casa bianconera, il messaggero segnala che ieri Peneranda non si è allenato sul campo per qualche fastidio muscolare. Si ferma Peneranda, rischia di saltare a Lempoli, ma vedremo oggi di capire com'è la situazione per l'attaccante, il venezuelano, che può essere sicuramente uno dei crack del nostro campionato a partire, speriamo già dalla prossima contro l'Empoli. Ha fatto già venire qualcosina, Peneranda delle sue enormi potenzialità. Speriamo riesca ad esprimerle al meglio, al più presto possibile. Poi c'è un box in cui si segnala la notizia, la falsa notizia ovviamente di ieri, con i tifosi che hanno scherzato sul web, richiamando quelli che sono concetti che i tifosi in questi giorni stanno sviluppando molto, cioè si parla molto del mercato. Sono arrivati tanti giocatori, molti tifosi lo dimenticano, dimenticano che sono arrivati tanti giovani, sono stati fatti investimenti importanti a partire già dalla passata stagione a cavallo, tra la passata stagione e quella che è appena iniziata. Forse qualcuno si aspettava che Pozzo andasse da De Laurentiis a pagare la clausola decisora di Higuain per portarlo a Udine. In tal caso è chiaro che si può rimanere delusi, ma per il resto, se si va ad analizzare il mercato dell'Udinese, sono arrivati tanti nuovi giocatori, alcuni di spessore per potenzialità e per quello che potranno sicuramente dare nella loro carriera in futuro e quindi chiaramente il futuro di adesso si chiama Udinese, il presente si chiama Udinese, per cui bisogna essere fiduciosi e dare anche a questi ragazzi segnali di fiducia da parte di tutto l'ambiente, perché solo così si può aiutare questi giovani a crescere. A pagina 50 invece il messaggero dedica spazio alle Olimpiadi e lo fa con un'intervista a Magro, che è un allenatore udinese di scherma che ha partecipato alle Olimpiadi come commissario tecnico della Germania. L'impresa a Rio, Magro vota il friulano Wade, l'analisi dell'Udinese allenatore di scherma dice che il sudafricano di Gemona è stato super, è stato davvero super il sudafricano che non solo ha vinto ma ha fatto anche il record del mondo. Eccolo qui, Magro con la fiaccola olimpica in mano e con la tuta ufficiale della Germania. Poi l'uomo copertina, secondo Magro, tra dieci anni ci ricorderemo più dei trionfi di Phelps che di quelli di Bolt, ha vinto più lui da solo, che intere nazioni, beh questo è vero ma Giuseppe Bolt ha caratterizzato le ultime tre Olimpiadi con tre ori nelle sue tre gare, nelle gare delle sue specialità di velocità, tre ori ad ognuna delle tre Olimpiadi a cui ha partecipato. Poi ha parlato anche del futuro di Federica Pellegrini, deve decidere da sola se continuare o chiudere la carriera, campioni come lei pretendono sempre il massimo da se stessi. E poi non poteva mancare chiaramente un parere sul caso Schwarzer, ricordiamo che Schwarzer è andato a Rio de Janeiro attendendo la decisione del TAS e che poi è arrivata con una squalifica di otto anni per lui, giudicato quindi dopato. Non credo abbia barato di nuovo, visto che si è affidato all'allenatore come donati che è il paladino dell'antidoping. Conosciamo tutti ormai la Vicenta Schwarzer, un controllo effettuato a sorpresa nel mese di gennaio, si è rivelato positivo dopo sei mesi, praticamente quasi alla vigilia della partenza per le Olimpiadi di Rio. L'unico controllo a cui è stato sottoposto a sorpresa in mezzo a tanti altri, una ventina, in cui è stata rilevata la presenza di testosterone, una modesta presenza di testosterone secondo le analisi ed evidentemente anche poi le controanalisi a cui ci si affida per confermare o sconfessare quindi il risultato delle prime analisi, del primo controllo e quindi per lui otto anni di squalifica. Nell'ambiente dell'atletica c'è chiaramente una divisione tra chi dice è impossibile che abbia barato di nuovo essendo stato seguito da donati il paladino del doping e quindi dall'altra parte si dice anche che qualcuno vuole combattere contro donati, vuole abbattere donati e ha utilizzato Schwarzer per fare questo, dall'altra parte c'è chi è inflessibile, dice il controllo ha detto che è risultato positivo e recidivo e quindi otto anni di squalifica, gli stanno bene il dibattito che andrà avanti evidentemente ancora per molto tempo, ma intanto Schwarzer è fermo, non potrà far nulla. Parliamo anche d'altro perché nel ciclismo c'è un altro sogno olimpico, Tarlao vuole la medaglia, si parla dei giochi paralimpici, le paralimpiadi che sono iniziate immediatamente dopo la conclusione dei giochi di Rio, si continua quindi a gareggiare ai giochi paralimpici del 2012, Tarlao fu quarto, in Brasile prova su strade a cronometro, ringrazio i miei dirigenti della BCC che mi lasciano vivere questa esperienza, è davvero un'esperienza che può portare anche gioia allo sport della nostra regione, speriamo e facciamo il tifo per lui. Alessa Trost infine per quanto riguarda ancora le Olimpiadi, dice sto zitta, le Olimpiadi dell'atletica in generale, finché non parlo con il coach, la vicenda è quella dell'addio da Gianfranco Chessa, l'allenatore che l'ha tirata su, l'ha portata ai livelli che tutti quanti conosciamo, l'ha portata a saltare i due metri, l'ha portata quindi a diventare la saltatrice in alto più importante, a superare anche i due metri se non ricordo male, ma comunque è sicuramente l'atleta più forte del salto in alto nel nostro paese. L'inghippo è stata una conferenza stampa di Malagò dopo la finale alle Olimpiadi in cui Alessia si è classificata quinta, Malagò ha detto che Alessia si allenerà ad Ancona con Tamberi, che è il papà di Tamberi, il saltatore in alto e questo ha scatenato naturalmente le ire di Gianfranco Chessa che non ne sapeva nulla e ha richiamato tutti ad un maggior rispetto visto che lui è stato l'allenatore di Alessia Trost per tantissimo tempo, avrebbe voluto essere avvisato diversamente, magari direttamente alla ragazza che ha detto io non parlo fin quando non avrò parlato con il coach e quindi vedremo come si chiuderà questa storia. Parliamo invece di basket con la GSA che sta pedalando con l'Ardo, lo sta facendo a Gemona, sede del ritiro in bici al Lago di Cavazzo con il coach, a Gemona un'esperienza bellissima al termine del ritiro precampionato la GSA giocherà la sua prima amichevole, noi saremo in diretta alle 18 sabato dal Palasport di Gemona dove però non si affronterà il Klagenfurt ma il Villac cambia poco, comunque un amichevole di chiusura di preparazione precampionato, poi il 2 e 3 settembre Vanuzzo e i compagni rispoteranno il grado basket assieme ad Agrigento, Trieste e Venezia, in questo torneo le due squadre del flui di Venezia Giulia attesissime al derby questa stagione potranno affrontarsi eventualmente soltanto in finale perché sono già state stabilite le semifinali, i due accoppiamenti e non giocheranno contro nelle prime partite ma lo faranno eventualmente soltanto in finale mentre il 9 e 10 si giocherà a Lignano, il trofeo Lignano basket con Treviso, Mantua e nuovamente Trieste e questa volta invece Trieste e Udina a quanto pare sembra che si incontreranno subito già nella semifinale e sarà in tal caso il primo derby della stagione ed anche in questo caso Udinese TV sarà presente. Il 13 i bianconeri sfideranno a Caorle lo Zalgiris Caunas e tre giorni dopo invece un altro derby nel triangonale Tristino a cui parteciperà anche il Partizan e infine la GSA sarà ospite a Treviso della De Longhi il 21 settembre e il 25 contro Verona a Castelfranco Veneto, poi il 2 ottobre inizierà il campionato e quindi si comincerà a fare sul serio ma ci sono una serie di amichevoli interessanti anche contro formazioni importanti del basket italiano ed europeo. Continuiamo ancora con il messaggero Veneto, sfogliamo anche l'ultima pagina di sport perché si occupa di Pordenone a due giorni dall'esordio, Nero Verdi già in forma ma c'è purtroppo da registrare il KO di Berrettoni, l'ultimo test prima del Gubbio che sarà la prima avversaria del campionato, è finito 6-0 il test contro il Chionz, ha dato segnali confortanti a Tedino, sarà un 4-3-3 in caso di forfè del fantasista. A Padova invece dei rivali del Pordenone che sono squadre importanti che hanno anche un passato importante nel calcio nazionale, sono il Padova con Zamuner e Mandorlini che cercano la risalita in serie B e cercherà invece la salita più che la risalita il Pordenone affidandosi anche ai giovani. Linea verde per i ramarri, c'è anche il giovane slovacco Filinski, arriva quindi anche questo ragazzo aggregato al gruppo Nero Verde una promessa classe 99 che arriva dalla primavera della Virtus Entel ed è di nazionalità slovacca, è stato presentato a Berrettoni e compagni, si allena con loro e con tutta probabilità andrà per rinforzare stabilmente la Berretti in caso di necessità ma è un prospetto sul quale Tedino potrà fare affidamento eventualmente anche per la prima squadra. Notizie che arrivano dalla serie B con la partita tra il Cordenone e la Triestina che si giocherà al Bottecchia, manca soltanto l'ufficialità, ieri amichevole per i Granata e per il Tamai e vediamo per quanto riguarda il discorso di Cordenone e Triestina con tutta probabilità si giocherà al Bottecchia, uno spostamento dovuto in parte a motivi di opportunità in parte a ragioni di sicurezza. Non si giocherà quindi l'11 settembre a Cordenone, la prima della Coppa Italia di serie D con la Triestina ci si sposterà al Bottecchia di Pordenone. Lasciamo il messaggero Veneto, andiamo sul Gazzettino dove anche qui si fa un'analisi su questioni tattiche per quanto riguarda l'Udinese e con Iachini che secondo il Gazzettino ha nei suoi piani una Udinese votata all'attacco. Senza un regista puro, l'allenatore intende affidarsi ai tre quartisti e in allenamento prova uno schieramento con Zapata, Pegnaranda e Depol. Sono state varie prove tra cui anche quella di una difesa a quattro, vedremo se insisterà su questo modulo. Festeggiare la passione per i colori bianconeri sul tagliamento e in scena la festa dell'orgoglio bianconero. È il senso di questa festa organizzata dagli Ultras 1995 che è uno dei gruppi più attivi in curva, curva nord della Dacia Arena. L'evento si terrà il 3 settembre a Dignano e si chiama Festa dell'orgoglio bianconero e sarà organizzata, si terrà al campo sportivo del comune affacciato sul tagliamento. E poi continuiamo ancora a leggere da 120 anni una ragione, un popolo, una squadra. Il moto scelto dal gruppo dei Ultras per pubblicizzare la serata. Si stringe per Crisetic e Cabasele e quindi si parla ancora di mercato. Come vedete il mercato non è assolutamente fermo, le voci ci sono e qualcosa senza altro verrà fatto ancora per aggiungere elementi a quelli che sono già arrivati finora dal calciomercato. Mentre sono in uscita Edenilson e Lodi per il quale ci sarebbe il Milan di Vincenzo Montella sulle tracce. Tornando però all'Udinese, prima di chiudere con il gazzettino, Felipe, e quindi tornando a quello che è il discorso della difesa che facciamo poco fa, Felipe è pronto a tornare titolare. Vedremo poi se, vista l'assenza di Ertò, ci sarà un cambiamento di modulo considerando anche come gioca l'Empoli, ma staremo a vedere, lo scopriremo soltanto ovviamente domenica quando verranno fornite le formazioni ufficiali. Anche il gazzettino ovviamente si occupa del Pordenone, Tedino conferma la macchina da gole, si parla dell'amichevole di ieri contro il Chionz, finita 6-0 con reti di Arma, Cataneo, Semenzato, Martignago, Gerbaudo e Suchu, un 6-0 contro la formazione di Lettanti che ha messo comunque in mostra un Pordenone che sta lentamente avvicinandosi alla partita contro il Gubbio del giorno 28, sarà l'esordio per la formazione nero-verde e sta raggiungendo la miglior condizione possibile per questo inizio di campionato. Per sabato Misuraca e Martignago sono in ballo con Suchu e Pietribiasi, sono tutti dubbi che Tedino deve sciogliere e che scioglierà con gli ultimi allenamenti che si trattano oggi e domani, con domani presumibilmente la rifinitura e poi sabato la partita contro il Gubbio. A proposito del Gubbio, gli avversari che giocheranno con la fascia del lutto dopo il terremoto in centro Italia, c'è stata una fortissima paura anche nella città umbra per il terremoto, domenica ci saremo e tutto il calcio, tutto lo sport e in qualche modo renderà omaggio alle vittime e manifesterà la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, il calcio lo farà con un minuto di raccoglimento. La Friuli Intagli confida nei salti di Alessia Trost sul Gazzettino L'Atletica Leggera, il DT Rover e la promessa prima di Rio di partecipare agli assoluti Lega Oro con Alessia Trost che vediamo qui in foto insieme a Desiree Rossit. In programma due feste per gli Olimpici a Pordenone e a Udine, c'è stato il rientro man mano degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e ci sarà grande festa per loro, in particolare per chi ha vinto la medaglia come Chiara Cainero. Nel calcio di Serie D continuano le operazioni di mercato, si continua a preparare la prossima stagione, ieri test amichevoli di eccellenza per Cordenon Zettamai, Zubin rimane ancora fermo, ancora problemi per il cannoniere Zubin che ha fatto le fortune di molte squadre nei campionati dilettantistici della regione. Lasciamo il Gazzettino, passiamo ai quotidiani nazionali, Gazzetta dello Sport con i titoli di apertura e come dicevo anche i giornali sportivi non hanno potuto fare a meno di trattare l'argomento terremoto, lo fa la Gazzetta con un titolo sotto la testata, terrificante, drammatico sisma, oltre 160 i morti, strage di bambini, il terremoto ha cancellato interi paesi del centro Italia, distrutto l'hotel Roma di Amatrice, forse 80 ospiti al momento del crollo, quel territorio non sicuro, sono i suoi luoghi, tra i volontari al lavoro anche il pilota Fenati, poi mobilitazione, sport in lutto, un minuto di silenzio sui campi. Notizia caratterizzata dal colore verde, come chi è abituale lettore della Gazzetta sa che la Gazzetta ha delle pagine dedicate ad argomenti cosiddetti off-topic, cioè che non c'entrano a nulla con lo sport, ma che permettono anche a chi sfoglia il giornale sportivo di essere informato sui principali avvenimenti che non sono appunto di carattere sportivo. Qui al centro invece si parla di calcio, con l'operazione di mercato che vedono la Juventus vicinissima a Matuidi del Paris Saint-Germain, con il sì del francese, oggi a Monte Carlo col Paris Saint-Germain è un affare da 20 milioni, Quadrado è più vicino, con Conte che sta provando a trattenerlo, comunque non vuol darlo in prestito, si vedrà, ma sembra che Quadrado possa riprendere la strada di Torino dall'Inghilterra, e poi Zaza che va al West Ham, era sembrato in procinto di andare al Napoli. Poi Pasalic, un altro talento che potrebbe arrivare in Italia, ed è una scommessa del Milan, che lo ha preso, la Gazzetta ha fatto questo trasferimento, preso il centrocampista low cost, il croato arriva dal Chelsea, sì, ma la scorsa stagione a Monaco ha avuto problemi alla schiena, dovrà superare le visite mediche, che saranno molto accurate. E rimaniamo qui a destra per parlare dell'altra sponda del calcio milanese, cioè dell'Inter, con le parole del vicepresidente, che dice Zanetti, Andanovic e Icardi, loro pensino a lavorare, Andanovic e Icardi, che sono forse due casi un po' spinosi, che hanno, anche se vogliamo, bloccato in qualche modo il mercato dell'Inter, l'Inter ha dovuto, poi Andanovic ha rinnovato, per Icardi c'è stato un po' il balletto con il Napoli, a quanto pare ci sarà anche più di un rinnovo con ritocco dell'ingaggio al termine del mercato, indubbiamente Icardi non ha brillato nella prima uscita contro il Chievo, neanche Andanovic, ma non tanto per colpe specifiche sue, sembrano però due giocatori tristi in questo momento per l'Inter, che ha difficoltà ad ingranare in questo avvio di stagione, ma c'è da considerare anche che c'è stato un cambio di allenatore in corso, quasi nell'imminenza del campionato, con De Boer, che ha rilevato Mancini, che ha iniziato la stagione litigando con la proprietà cinesi, ha concluso andandosene via dall'Inter. Giro di punte in previsione per quanto riguarda Fiorentina e Napoli, perché è perso Zazel, Napoli ha virato su Kalinic, e sarebbe in vista uno scambio con Gabbiadini, Gabbiadini che evidentemente non è soddisfatto della sua situazione, di attaccante l'anno scorso era precario, perché aveva davanti un certo Higuain che ha segnato 36 reti al termine della stagione, quest'anno riteneva di meritare forse più fiducia, ma si è sentito sempre in discussione, per cui a quanto pare anche per lui la soluzione migliore forse è cambiare aria, e tra Napoli e Fiorentina potrebbe esserci questo scambio con Kalinic a Napoli e Gabbiadini a Firenze. C'è la signora tra le quattro favorite, l'urna può aiutare, c'è il Napoli in seconda fascia, questo è il discorso che riguarda invece il sorteggio della Champions, ci sarà oggi il sorteggio, Champions che perde purtroppo Italia, che perde la Roma per quanto riguarda la Champions, bisognerà aspettare poi domani il sorteggio di Europa League, dopo le partite dei play-off, le gare di ritorno dei play-off che vedono il Sassuolo, invece ormai ad un passo, 3-0 l'andata contro la Stella Rossa di Belgrado, al Maracanà di Belgrado si gioca oggi il ritorno con il Sassuolo, che non dovrà fare l'errore di amministrare il punteggio, ma certamente parte con un bottino confortante, che ci fa ben sperare per poter poi domani annoverare anche il Sassuolo, tra le squadre che attenderanno con trepidazione le avversarie della fase a girone dell'Europa League, qui vediamo i due allenatori invece italiani, Sardi e Allegri, che rappresenteranno quella della loro squadra d'Italia in Champions League, la Juventus, sembra essere con i colpi di mercato di quest'anno, la favorita, una delle favorite, è tra le quattro favorite, dell'Urna, può aiutare, poi vediamo il Napoli, che cosa combina, allora Aquilani e Diamanti, gli emigranti di ritorno, alla Lazio il bizzoso di RAR, sono gli articoli, è il primo dei tre articoli che la Gazzetta segnala da non perdere su Gazzetta Più, poi domani scatta la Serie B, la Gazzetta regala un insetto speciale su questo campionato, sempre molto affascinante, e poi per quanto riguarda l'atletica, il flop olimpico, il direttore tecnico dell'atletica Lascia dice, ho colpe, ma tutto il sistema non va, è stato davvero un flop, l'atletica, è stata un flop l'atletica italiana delle Olimpiadi, ma è chiaro, qualcuno deve pagare, paga il direttore tecnico, ma bisogna ripartire per questo quadriennio che scatta adesso, è scattato immediatamente dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Rio, e ci si proietta verso Tokyo 2020. Andiamo sul tutto sport, 120 milioni di motivi per vincerla, oggi si attende come dicevamo il sorteggio, 120 milioni è il cospicuo premio che la squadra che porta a casa, la Coppa dalle Grandi Orecchie, riesce ad incassare, facendo appunto il percorso completo, superando i gironi, superando le partite andate e ritorno della fase successiva, arrivando in finale, portando a casa la Coppa, ci si mette in tasca, 120 milioni, e questi sono i motivi per vincere, ma ci sono anche motivi che vanno al di là dei soldi, per la Juventus, che in Europa non ha vinto tantissimo rispetto a quanto è riuscita invece a vincere in Italia, quanti soldi per la conquista del trofeo, i bianconieri ancora più ricchi, grazie all'uscita della Roma, e infatti Juventus e Napoli, grazie all'uscita della Roma, se così si può dire, festeggiano l'uscita della Roma, perché incassano più soldi, il premio che viene assegnato all'Italia, alle squadre italiane che partecipano alla Champions, in totale, verrà diviso non più per tre, ma per due, e quindi Napoli e Juventus beccheranno un'altra cospicua fetta di milioni di euro, Conte intanto frena per quadrato, la Gazzetta lo dà quasi per fatto, mentre Conte frena per quadrato, è quello che sostiene il tutto sport, che invece è d'accordo con la Gazzetta, su Matuidi, che è in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda le fasce della Champions, andiamo a vedere, sono queste, sono quattro le fasce, la Juventus è insedita nella fascia 1 con Real Madrid, Barcellona, Leicester, Bayern Monaco, Juventus, appunto, poi Benfica, Paris Saint-Germain, Sesca di Mosca, il Napoli, e nella seconda fascia, quindi non è messo malissimo, e in seconda fascia ci sono Bayer Leverkusen, Porto, Siviglia, Manchester City, Arsenal, Borussia, e Atletico Madrid. Vediamo cosa viene fuori dal sorteggio, poi faremo il punto sulle squadre italiane, sul cammino che potranno fare, che potranno assicurare all'Italia, nella competizione europea più importante. Andiamo sul Corriere dello Sport, prima di chiudere la nostra rassegna, Calinici a Napoli, Gabbiadini, Viola, questo è il titolo del Corriere dello Sport, che abbiamo visto anche sulla Gazzetta dello Sport approfondito, c'è questa possibilità dello scambio tra i due attaccanti, a sinistra il Corriere dello Sport dedica un ampio spazio al terremoto, Centro Italia devastato dal terremoto, poi ancora per quanto riguarda il mercato, la Fiorentina resiste su questo scambio, ma non chiude e intanto aspetta Jovetic, De Laurenti si chiama della valle per trovare l'intesa, Zaza si allontana, sembra pronto il West Ham, per lui West Ham che si è fatto sotto di nuovo, anche per Bacca dopo la tripletta del colombiano contro il Torino, nella gara di apertura tra Milan e Toro la settimana scorsa, per cui vedremo, Bacca sicuramente è un giocatore interessante, ma il Milan vuol trattenerlo e quindi il West Ham, avrebbe virato definitivamente su Zaza, che ricordiamolo è sembrato ad un passo anche dal Wolfsburg a un certo punto, era andata addirittura in Germania a visitare il centro sportivo, tutto ok, poi la firma non è arrivata, Zaza è tornato a Torino, l'abbiamo visto anche in tribuna ad assistere alla gara contro la Fiorentina, adesso è pronto ad andare a quanto pare in Premier League. Romagnoli invece diventa un caso per quanto riguarda sempre il Milan, perché il Chelsea ha fatto un'offerta, Conte vorrebbe il giovane difensore a Londra, ma c'è Pasalic, come dicevamo, che qui vediamo in foto, 21 anni dal Chelsea, è arrivata la mezzà del centrocampista definito low cost per il Milan, e poi Conte vuole il giovane difensore, quindi ha aperto un po' in caso, in caso, in casa. Milan, chiudiamo con l'apertura invece di un processo per Spalletti che ha clamorosamente toppato in questo inizio di stagione, l'anno scorso ha fatto bene, ha portato la Roma alla fine alla conquista del terzo posto, e quindi con il diritto a partecipare al playoff, al preliminare di Champions League, preliminare del quale la Roma è naufragata, una figuraccia della Roma contro il Porto, Spalletti sotto processo, senza Champions, tutto da rifare, ci sarà l'Europa League che è un tantino più noiosa rispetto alla Champions, se non altro perché viene considerata di migliore importanza, almeno nella prima fase, e quindi viene considerata addirittura da alcune squadre un disturbo su quella che è l'attività invece del campionato, poi man mano che si va avanti assume più importanza anche all'Europa League, ma certamente la Champions è un'altra cosa, anche e soprattutto dal punto di vista societario, dal punto di vista economico, dal punto di vista dei tifosi, ovviamente è un parco scenico diverso, c'è molta delusione per la figuraccia della Roma, è per la Champions che è stata lasciata al Porto, che ha passeggiato allo Stadio Olimpico, grazie anche non solo a quello che si è visto di tecnico in campo, ma anche lo sconsiderato fallo di De Rossi, un esperto come lui, non avrebbe dovuto lasciare la Roma in dieci in quel modo, poi addirittura Roma lasciata in nove da Emerson, anche lui è espulso, una sera taccia che però priva Roma e l'Italia di una squadra in Champions League per l'ennesima volta. Chiudiamo qui la nostra rassegna, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Grazie per aver guardato il video,